Giovedì 25 luglio si svolge la manifestazione Choco Bike, qual è il programma per quest'anno? Allora, per quest'anno come del resto di tutti gli anni si tratta di una pedalata lungo le piste ciclabili di Arezzo. Toccheremo certo i vari parchi anche per dare un pochino più di respiro a questa pedalata, va bene? Quindi il parco Pertini, il parco Ducci e poi partendo da Piazza della Repubblica, cioè piazza lì alla stazione, prenderemo i nostri affiliati, chi vorrà partecipare, sarà anche quest'anno il 25 luglio alle ore 21, quindi anche in collaborazione con la Notte Rosa, per cui chi vuole venire si dovrà recare in Piazza della Repubblica e da lì partiremo per le piste ciclabili. Sarà un percorso di 6 o 7 chilometri, non di più, e raggiungeremo poi il bar Chocolate per un cono gelato gratuito. Si tratta di una pedalata in tutta tranquillità, quindi saranno molto le famiglie, bambini, e è sempre una manifestazione gradita per la cittadinanza d'Arezzo, quindi la FIA ogni anno la rinnova.